Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura. Gli avversari e nemici sono essi a cadere. Così l'antifona d'ingresso di oggi della Messa si serve del Salmo 26 per invitarci ancora una volta a confidare pienamente nel Signore, a mettere tutta la nostra vita nelle sue mani. Oggi è venerdì. Il venerdì ci ricorda il giorno della passione e allora, fratelli e sorelle e care, viviamo sotto la croce questo giorno contemplando il crocifisso che per amore dona la vita. L'amore dà sempre la vita. L'amore vero dà la propria vita. E oggi, venerdì, proprio perché ricorda la passione, ci ritroveremo alle 14.50 a pregare insieme dinanzi al Santissimo Sacramento la coroncina alla Divina Misericordia, sempre in diretta sul canale YouTube Don Francesco Cristofaro dalla Chiesetta di Simeri. Voglio invitarvi a volervi bene. Voglio invitarvi a consegnare tutta la vostra vita nelle mani di Gesù e di Maria. E dite al Signore, così come ci invita il Salmo 24 di oggi, ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi. Dio della mia salvezza. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E allora vi ricordo che tutte le mattine abbiamo la novena alle 7.30 di Maria che scioglie i nodi, e ci vediamo oggi, poiché venerdì, alle 14.50, per pregare la coroncina alla Divina Misericordia. Io vi abbraccio e vi ricordo la frase del Salmo. Vi voglio bene, buona giornata, e uniti in preghiera sempre.